volevo andare avanti a parlare di questo nuovo paradigma che sembra un po dimenticato di questi tempi oltre alla coscienza uno dei grandi dimenticati del che il nuovo paradigma voleva vorrebbe portare sul palcoscenico è il vuoto è talmente trascurato il vuoto che uno dice ma di cosa stai parlando eppure è così evidente è talmente evidente che così come diceva il buon assente superi l'essenziale è invisibile agli occhi anche l'evidenza è invisibile agli occhi viviamo in un mondo pieno che ha dimenticato il vuoto facciamo qualche esempio se il pieno è il battere il microbeo il vuoto è il terreno è l'organismo se il pieno è la materia il vuoto lo spirito se il pieno è l'energia il vuoto la coscienza se il pieno è quello che io so il vuoto è quello che io non so o meglio che ancora non so e che posso vedere se il pieno è la forza il vuoto è la debolezza ora guardiamo un po la nostra società e vediamo che c'è una controposizione la famosa controposizione sulla quale insisto perché il pieno è duale il pieno è sempre una controposizione tra due aspetti mentre il vuoto è integrale immagino una bottiglia l'acqua il vuoto che avvolge che c'è nella bottiglia è intero l'acqua può essere più o meno puoi riempire la bottiglia ma è sempre qualche cosa che va a introdurre una parte in una totalità ora il vuoto ci dice anche guarda che le cose sono sempre insieme sono integrali guarda che c'è qualche cosa che non vedi guarda che ogni volta che entri in una diatriba come quello che sta succedendo noi vediamo due parti che si contrappongono che si odiano che cercano di prevarere e quasi nessuno vede mi rendo conto che sto insistendo un po su questo tema ma è così dimenticato nessuno vede che quelle sono due parti dello stesso problema e che se noi vogliamo veramente cogliere l'opportunità di fare un passaggio trasformativo noi dobbiamo cogliere quello che manca noi dobbiamo in questo caso raccogliere il nuovo e il nuovo ci dice che onde particella materie spirito sono uno come dicevamo non puoi lasciare fuori la coscienza così non puoi lasciare fuori il vuoto ora se proprio vuoi fare qualche cosa di nuovo se proprio vuoi dare un nuovo contributo prova a sottrarti a questo dualismo e prova a chiederti che cosa significa reintrodurre la dimensione di vuoto considerare l'aspetto vuoto del pieno considerare quella parte che c'è dietro le quinte di ciò che viene sul palcoscenico la rappresentazione sul palcoscenico è sempre una dialettica tra parti e il palcoscenico le raccoglie tutte se noi provassimo a cogliere questa opportunità e a riflettere ma che cosa vuol dire questo versante scordato della nostra società il vuoto forse daremo il nostro contributo possiamo provare